Salve a tutti ragazzi, questa sarà l'ultima volta che farò un intro così, perché per il canale c'è una novità. Allora, io innanzitutto, vabbè, non ho fatto video sfogo sulla Serie A, sul fatto che l'Agnelli ha manipolato tutta la Serie A con il fatto di spostare le partite per il coronavirus e sì, Juventus-Inter rimandata al 13 maggio, lo so io perché vi cagate sotto dei cuginastri. Quindi, vabbè, per il resto, allora, che devo dire, scusate se ho girato, per il resto, vabbè, Juve-Milan, prima a porte chiuse per tutti, poi a porta aperte sono i tifosi bianconeri, bravi pagliacci, ma avete di nuovo messo a porte chiuse, perché, insomma, ci sono alcuni contagiosi, veramente, ma quanto siete ridicoli. Ma se volete farci fuori, o meglio, fare fuori in Milan, fatelo pure, cioè, che devo dirvi, cioè, voi comandate tutto in Serie A. Ah, bene, chiusa sta parentesi con quei pagliacci juventini, che saranno l'unica squadra dove io non sarò di parte in questo nuovo format. Allora, chiamiamolo così. Allora, io da oggi farò video con tutte le big, Milan, Inter, Napoli, purtroppo anche i ladri bianconeri, la Roma e anche un po' la Lazio, dice anche la Lazio, questi qua l'Atalanta, qualche partita mi commenterò, giusto perché adesso sono fra le grandi, quindi non posso dire niente. Lo farò perché, perché dopo la cacciata di Boban e Maldini, che avevano aperto bocca sulla tirania di Gazzidis, che non voleva pigliare gente in esperienza, ma solo giovani, perché lui e Elliot devono fare i soldi, ecco, sappiamo tutti qual è il vero motivo, vogliono fare i soldi alle nostre spalle, con quel contratto di merda che c'ha quel sud-americo, sud-africano del cazzo. Comunque, praticamente, Boban e Maldini sono stati cacciati ormai. Io sono rimasto profondamente deluso, ma avete, Gazzidis, hai strappato le nostre storiche bandiere di fronte ai nostri occhi. Ora ci sarà la rivolta fra i tifosi del Milan, la rivolta, verso di te. Sei una merda d'uomo, una merda d'uomo. Non so veramente che altro dire su di te, veramente, ma vergognati, tu Elliot, vergognatevi. Ora che stavamo, non dico tornando, però eravamo in viena di crescita, che fateci stroncate sul momento, appena il Milan cresce un po', stroncati. Complimenti, bravi. Stavolta il peggio è che voi ci avete a noi scavato la fossa, non le avversarie. Io, infatti, dato che al Milan ci sarà solo gente di Gazzidis, da questo momento, lo dico, finché Gazzidis non se ne andrà, non sarà per sempre, non vi preoccupate. Rimarrò neutrale, infatti mo' farò un format con tutte le partite di Serie A, perché, cioè, con quelle là che ho detto delle big, perché io non voglio tifare ancora Milan con questo bastardo di Gazzidis che amministra tutto. Io a stare a pecora con un tiranno così non ci sto, ma manco per il cazzo. Veramente, una merda d'uomo che mi ha tolto l'unico amore della mia vita. E adesso lo riconquisterò solo, lui, anzi, lui riconquisterà me. Non serve che torni grande, basta che Gazzidis se ne vada. Quando Gazzidis se ne andrà, grande o piccolo che sia il Milan, io tornerò. Ma per adesso, per accontentare anche un po' tutti su internet, vedrò, cioè, insomma, sul mio canale di YouTube, vedrò di fare un nuovo format che si chiamerà, tenetevi forte, Rutto Sport. Lo so, sembra strano, eh? Eh, questo format, io farò una intro speciale per ogni video, sempre la stessa, però, per ogni video. Una intro particolare. Eh, eh, bambini, non fatelo a casa. E vabbè, per il resto non ci sono altre novità, nuova vita, nuovo format. Tifosi milanisti, per favore, non mi dite niente. Non mi dite niente di brutto, perché mi spezza il cuore, ma non ce la faccio stare dalla stessa parte di Gazzidis. Perdonatemi, veramente. Beh, l'era di Rutto Sport sta iniziando.